Oggi abbiamo un personaggio straordinario, è il mezzo busto del TG5 prima, perché adesso si è specializzata nella musica, Susanna Galeazzi, una grande amica e collega che sono felicissimo di introdurre qui all'antivirus. Ciao Claudio, che presentazione! Me la fai, mi è piaciuta da dire, non so se mi ricapite. È stata una carriera anche ostica la tua, hai dovuto un po' sgomitare come sol dirsi anche e soprattutto nell'ambiente, per poi arrivare a fare quello che in realtà ami. Pensare allo sport, se donna, perché il cumione è importante, vuoi fare sport, abbiamo visto le colleghe, un po' di quest'anno già con la Leoppa, con la Petraria, no, non mi piace fare, però effettivamente è così, ma nella musica, in qualsiasi settore, purtroppo, le donne devono dimostrare sempre di più, a partire del cumione, perché io l'ho sempre detto, il cumione, per me è stato un grande sottorialista, poi ovvio, lì entra il gioco in campo, Susanna, magari altri, non c'è un tiro a Galea, cioè il termine, ecco, mio padre non ha mai esistito, non esisterà mai, perché io ho un'unica della sottopoessionalità della sua grinta, insomma, nell'interno c'è sicuramente la funzione di questo lavoro, e ti posso dire che mio padre non mi ha mai, mi ha dato due o tre consigli, di tanto non mi ha mai spinto, perché è quello che più ti piace. Greta, tua figlia, che ormai è il cuore della tua vita, giustamente, e come... Greta è il mio padre, Greta è una Galeazzi, ti giusto, in parte che è lo stesso punto in regalo, vabbè, per chi ci vede e per chi no, però è una Galeazzi, ha una grinta, ha... e poi è simpaticissima, ora non so, per dirti come fanno tutti i genitori, del mio genio, è la migliore del mondo. Sì, però, mia figlia è una grande mara cura, ti può dire, Claudio? Lo possiamo dire, ecco. La cosa bella è che lei, in questo momento, sta facendo crescere bene. Ah, vedi, c'è uno scambio, c'è uno scambio. Sei in prima linea nella lotta, se possiamo parlare di lotta per risollevare questo settore così importante che, come dici, coinvolge tantissime persone, non soltanto quelli di che stanno davanti alla telecamera o su un palco, sono arrivati dei fondi, state nottando per che cosa, nello specifico, qual è, diciamo, l'auspicio a breve e medio termine? Non abbiamo avuto nessun fondo, ma non è neanche previsto, perché non è soltanto il sostegno ai teatri, alle produzioni, è il sostegno ai lavoratori, perché noi non abbiamo diritto a me in questo momento, non abbiamo il contributo IMS, lo c'è, perché se non hai un contratto, non puoi dire da vedere niente, e questa è una idea che viene, come sai, a scritture che già prima erano precarie scambi, oggi siamo completamente fuori dei giorni. Una doppia interpretazione, perché alcuni, insomma, sono usciti per le strade e fanno finta di nulla, altri ancora hanno molta paura. Cioè questa fase 2, in sostanza, è qualcosa relativa... È giusto, noi non sappiamo niente di questa fase 2, per la verità, solo che siamo di più in strada, ci muoviamo di più, possiamo fare più cose, forse avete notato come è stato così, ad esempio si entra più facilmente nei supermercati dove prima c'erano quote enormi, perché probabilmente c'è più gente, diciamo che la gente che era impegnata a fare quelle file adesso paga, non è questo il punto. Noi fra dieci giorni sapremo qual è la situazione. Io pregherei entrambi di essere molto sintetici. Quali sono i punti su cui battere? Cimmino, così magari dopo il senatore controbatte e cerchiamo di capire qual è il nocciolo della questione, che cosa dobbiamo aspettarci nel breve medio termine. I punti fondamentali sono quelli di semplificare, semplificare, semplificazione massima, quindi cercare di azzerare in questo momento la burocrazia che invece ci sta paradossalmente soffocando anche in un momento di grandissima necessità. Quindi rivedere come far arrivare questi soldi non soltanto direttamente alle famiglie, ma vedere come farli arrivare direttamente alle piccole e medie imprese, ma soprattutto sottolineo alle grandi aziende. Vi pregherei però di uscire dalla viaggia politica, usciamo dalla viaggia politica Cimmino, per favore non ci interessa la politica, parliamo di questo provvedimento. Quanto tempo ci vuole? Quanti soldi ci sono? Quando arriveranno però concretamente? Che arriveranno soldi, anche a fondo perduto, è un dato certo. Io in questo momento la serenità purtroppo non la possiamo garantire a nessuno, perché stiamo di fronte ad una crisi dove la possibilità del contagio ce l'abbiamo nel contagio. Quanto tempo? Una settimana, due? Quanto tempo, senatore? Il provvedimento verrà sicuramente licenziato al massimo nei prossimi dieci giorni, al massimo. Lasciamosi con una notizia. Oggi, stamattina era la settimana, va bene. No, no, ma ho detto 10 giorni, ma sono anche di meno. Che cosa? Mi dica tre punti di questo provvedimento fondamentale che un po' si riflettono in quello che diceva l'imprenditore, che un po' si fa portacucce di tutti. Prolungamento delle scadenze fiscali, perché non è possibile che gli imprenditori debbano ottenere scadenze fiscali. Arriveranno liquidità importanti e poi c'è il prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori. Questo per quanto riguarda gli imprenditori. Però con somme importanti, con somme di una certa importanza. Siamo regolamentati, quindi non l'abbiamo... Facciamo così, senatore, come abbiamo fatto la stessa volta con Cimmino. Lasciamoci con quella che possiamo chiamare una promessa, no? Che ha fatto? 10 giorni, ci risentiamo e vediamo nella fattispecie se queste iniziative sono state realmente concretizzate, immesse nel mercato del lavoro. Facciamo così, ci risentiamo tra 10 giorni? Va bene? Va bene.